Questo programma è offerto da BPS, Banca Popolare di Sviluppo, la banca della tua regione. La campagna, i suoi colori, i suoi sapori, la sua inconfondibile luce. Cuore aperto e abbondante, sorriso sul mondo, anima unica. Un'isola tra le colline del Sannio, costruita a strapiombo sulla gola di Martorano. Sant'Agata dei Goti, all'area di una signora d'altri tempi. Tra le colline del Sannio, oltre alla gola scavata dal fiume Martorano, si erge la cittadina di Sant'Agata dei Goti. Una scimmia di pietra, vigile e attenta, fa da guardia scrutando l'orizzonte. Dal ponte che attraversa la gola, il paesaggio toglie il fiato. Un mosaico di case e palazzi sovrasta la lussureggiante vegetazione. Sant'Agata divenne sede vescovile nell'undicesimo secolo, ma la costruzione del Duomo ebbe inizio solo nel secolo successivo. Di notevole interesse architettonico, il Duomo fu arricchito con numerosi ritrovamenti archeologici. Le stesse colonne del suo porticato sono originarie dell'epoca medievale. Nel 1762 ne divenne vescovo Sant'Alfonso degli Guori. Qui il culto del santo è molto sentito. Basti pensare alla stessa piazza Sant'Alfonso, una delle più belle della città, e al monumento a lui dedicato, in piazza Umberto I. Popolata da circa 12.000 anime, Sant'Agata è una cittadina tranquilla e ordinata. Da qualche anno, l'amministrazione comunale punta tutto sulla cultura e sulla storia. Sant'Agata ha un'anima medievale, dalla quale prende vita il sagno Film Festival, l'unica rassegna cinematografica europea di film in costume. Numerosi sono i piccoli locali e ristoranti tipici tra le vie antiche della città, tutti con un'ottima cucina tradizionale, accompagnata sempre da eccellenti vini fruttati della zona. Luci ed ombre, tele grezze e pennelli, legno e terra cotta, sulla terrazza che affaccia sul Golfo di Baia, è il regno segreto dell'artista Ferdinando Ambrosino. Per me l'arte è la memoria delle cose viste, toccate, udite, odorate. Vedete, io sono un pittore che è nato a Bacoli e vive da tanti anni a Bacoli. Bacoli è i campi flegrei, è una zona mitica. A Bacoli si incrocia la cultura greca con quella romana. E poi la mitologia. La mitologia è di casa qui nei campi flegrei. L'antro della Sibilla Cumano ha dato spunto a scrittori e a poeti di scrivere pagine memorabili. Io sono vissuto in questa atmosfera, ho respirato questa cultura e quindi ho assorbito tutto quanto c'era da assorbire dalla cultura greca e romana. E quindi ho dipinto per tanti anni. Inizialmente il paesaggio flegreo mi ha affascinato. Poi negli anni 90 è avvenuta una trasformazione. Non mi interessava più il paesaggio in sé stesso per quello che rappresentava, ma per quello che poteva essere nell'immaginazione dell'artista. Quindi sono venuti fuori dei paesaggi, i paesaggi della memoria. La memoria di un paesaggio, la memoria di un'atmosfera, la memoria di un'emozione. E quindi la pittura ha avuto una sua trasformazione. Quindi da pittura, diciamo, en plein air, quindi di interpretazione di un paesaggio, sia pure interessante, siamo arrivati a una pittura introspettiva, dove la memoria delle cose che si sono viste, che si sono, come dire, toccate, rappresenta l'elemento fondamentale del nucleo pittorico della mia pittura. Pur vivendo a Bacoli, però, ho girato il mondo. Infatti le mie esposizioni sono state fatte in varie parti del mondo. In Sud America, nel Venezuela per tanti anni, ho fatto più di 11 esposizioni, anche in spazi museali. Poi il Nord America, nel 94 a New York, nel 2001 a San Francisco, poi ancora nel 2007. E adesso teniamo in programma una grande mostra, una grande mostra al Chelsea Musee di New York, dove l'avventura continua. Non è semplicemente un'esposizione imperniata sull'opera pittorica, ma soprattutto sulla scultura. Questa scultura in terracotta, che è una materia antica, naturale, ma che può essere rappresentata in chiave moderna, andiamo lì, con questa grande mostra, dove ci saranno delle sculture che peseranno 4-5 quintali, quindi lascio immaginare l'avventura, in che cosa consiste nel trasporto di queste opere. Ma le avventure, le cose difficili, per un artista sono sempre stimolanti. Quindi ci avviamo a questa grande mostra per il prossimo anno, e ripetendo, cercando di ripetere il successo che ho avuto a Napoli nel 2004, con una grande mostra a Palazzo Reale di Napoli, col contributo del Ministero dei Beni Culturali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.